Sono Eleonora e gestisco l'Hotel Plaza di Milano Marittima. Ho scelto Hotel CC perché mi è da subito piaciuta l'interfaccia grafica, lato utente, e perché ci ha velocizzato di molto il lavoro di back office, per cui sicuramente la velocità di utilizzo, la semplicità, un vantaggio competitivo nei confronti degli altri alberghi, a livello comunicativo con l'ospite. È stato veramente un valore aggiunto per noi, sia per semplificare quello che era tutto l'invio massivo, la programmazione, sia anche per poter dare uno strumento ad una segretaria, magari nuova. La cosa che ho prestato di più è la semplicità di utilizzo e la velocità con cui si riesce a comunicare e ad avere a portata di mano, anche magari durante una semplice telefonata, tutto quanto lo storico comunicativo con un singolo ospite. Lo consiglierei sicuramente per la velocità e semplicità di utilizzo, per il vantaggio competitivo che può avere a livello grafico rispetto ai propri competitor e per le statistiche che non sono da sottovalutare perché danno un feedback veloce, istantaneo su tutto quello che è il lavoro operativo del front office rispetto alla quotidianità del nostro lavoro.